Ciao amici, benvenuti in questa nuova puntata, io sono Alessio, per oggi non ti porto fuori con me in una nuova uscita fotografica quanto piuttosto ti vado a parlare di un'attrezzatura che sto utilizzando da un po' e sto parlando di questa qui, la Insta360 Ace Pro, che Insta360 ha deciso di mandarmi per testarla sul campo Prima di iniziare però ti chiedo di iscriverti al canale, la maggior parte di voi guarda i miei video ma non è iscritta a te non costa assolutamente nulla, iscriviti al canale ma per me è molto molto importante, mi darò una mano a crescere e continuare a portare dei contenuti di questo tipo Sì ok, è una cam che è uscita da ormai sei mesi, ormai tutti i miei colleghi ne hanno parlato ma infatti questo video non sarà una recensione, quanto piuttosto Insta360 me l'ha mandata per testarla sul campo e ho libertà assoluta di dire quello che penso, tu sei libero di crederci o no, ma è così, sono libero di dire tutto quello che voglio su questa cam e allora da dove potrei iniziare dopo così tanto tempo che sto utilizzando anche nelle mie uscite fotografiche e potrei iniziare col dirti che al lancio di questa cam io ero particolarmente scettico non ho avuto modo di provarla in anteprima quindi esattamente come te magari ho guardato le recensioni che venivano pubblicate al momento del lancio però prendo sempre un po' con le pinze, con le recensioni lì perché tutti ne parlano sempre bene sempre cose positive, insomma non è che ci creda tanto ora però che ho avuto modo di utilizzarla per un bel po', ho fatto dei video, ho fatto dei lavori che ho pubblicato sul mio canale con questa cam, devo dirti che effettivamente è un buon prodotto ha degli aspetti positivi, ha dei difetti oggettivi, te ne parlerò in questo video anche degli aspetti che soggettivamente non ho apprezzato molto ma è un buon prodotto, si vede proprio anche una maturità da parte di Insta360 nella creazione della cam che se guardi anche richiama molto un form factor della concorrenza hanno abbandonato il sistema modulare per praticamente copiare la concorrenza allora facciamo un punto della situazione non è sbagliato richiamare delle soluzioni tecniche che già funzionano molto bene per ricercare magari per forza l'originalità o diversificarsi se questo form factor funziona ed è pratico ed è resistente e tutto quello che vuoi è giusto secondo me richiamarlo e quindi brava Insta che è andata a creare questo prodotto tra l'altro non mancano le innovazioni, infatti questo attacco rapido di Insta360 sulla Ace Pro è veramente buono, è veramente pratico unica cosa Insta se mi stai ascoltando, fallo diventare uno standard non cambiare su ogni modello l'attacco in modo tale che se adesso io ho 2-3 modelli di Insta360 mi trovo 3 attacchi differenti o quasi hai creato questo attacco che funziona bene? utilizzalo su tutte le cam perché è veramente comodo avere un singolo accessorio e poter intercambiare le cam magari per le cose che dobbiamo fare però adesso andiamo sull'uso pratico e vediamo come mi ha impressionato sto utilizzando questa cam da un paio di mesi, tutte le mie uscite fotografiche proprio in questi contesti di utilizzo ho potuto apprezzarne la qualità e per questo fino all'inizio ti ho detto che si tratta di un buon prodotto a partire dalla curva di apprendimento di utilizzo di questa cam io senza dovermi spulciare il libretto di istruzioni ho saputo settare la macchina in base alle mie esigenze semplicemente guardando i menu ed è molto semplice capire come attivare determinate funzioni all'interno della cam quindi chapeau a insta360 che ha saputo creare un menu semplice per una cam così complessa e visto che parliamo di utilizzo della cam come lo utilizzo io nelle mie riprese nella modalità dove la cam mi salva il file finito direttamente nella scheda di memoria in formato mp4 con stabilizzazione già applicata della cam la color già applicata e anche l'eventuale correzione della distorsione si può utilizzare anche un altro metodo che è il free frame ovvero fai tutto dopo in post produzione con insta360 studio ma io non amo molto questi passaggi dove devo poi rielaborare il file riesportarlo foglio già il file finito per poi buttarlo nel mio software di montaggio video e completare il contenuto bene in questo contesto io ho individuato una cosa che mi è piaciuta tantissimo un aspetto positivo e uno negativo un difetto iniziamo dal lato positivo io ho utilizzato la modalità hdr che si attivava in automatico la cam decideva quando applicare l'hdr nelle riprese e qui mi ha impressionato perché è molto ben bilanciato quando veniva applicato non ottenevo dei video surreali ma dei video molto ben bilanciati quindi molto bene come ha lavorato insta360 con l'hdr cosa non scontata e si vede magari nei video che realizzano dei modelli della concorrenza ma adesso vediamo l'aspetto negativo il difetto che ho riscontrato riguarda la stabilizzazione guarda bene queste riprese sono delle riprese stabilizzate ma se notti io mi stavo muovendo e sembra andare molto a scatti sembra scattosa sembra che l'inquadratura stia ferma stabilizzata su un punto finché ce la fa e poi scatta si sposta poi tiene botta e poi si disposta vedi che va un po' a scatti non c'è solo un caso dove mi è capitato mi è capitato in vari casi ti ho portato qui degli esempi si verificava principalmente quando io riprendevo il paesaggio non si verificava quando mi riprendo me stesso perché tramite le AI lei riconosce i volti e probabilmente riesce a stabilizzare meglio quindi c'è quel difetto che si presenta in quel contesto probabilmente metto già le mani avanti questa cosa non si verifica se io avessi ripreso in modalità free frame quindi facendo fare la stabilizzazione in post produzione a casa tramite un pc o comunque un computer che va ad applicare la stabilizzazione forse in quel caso non si sarebbe verificato il problema ma non lo so non ho testato tra l'altro è un difetto che secondo me può essere risolto facilmente con un aggiornamento firmware mirato perché questo problema si verificava anche nelle gopro serie 789 nei primi firmware e poi gopro l'ha risolto con qualche aggiornamento firmware quindi sono fiducioso penso che potranno risolverlo anche in insta 360 e come non posso parlarti delle AI l'intelligenza artificiale che è stata integrata in questa camera e che tutti hanno sbandierato soprattutto principalmente per quello che riguarda la capacità di fare delle buone riprese in condizioni di scarsa luce ma calma e gesto ci sono delle cose da dire allora c'è un aspetto che mi ha proprio impressionato delle AI integrata in questa camera ma non riguarda la capacità di riprendere in condizioni di scarsa luce quanto la capacità di riconoscere i volti perché la camera riesce a riconoscere i volti quando ad esempio io utilizzavo la modalità selfie con lo schermetto alzato e mi riprendevo bene lei riconosceva il mio volto e mi manteneva l'esposizione corretta sul volto è una cosa fenomenale perché riesce ad avere un video molto ben bilanciato dal punto di vista dell'esposizione sul volto appunto delle persone che stanno magari parlando facendo un vlog ha provato assolutamente l'AI e l'intelligenza artificiale sotto questo punto di vista per quanto riguarda le riprese in condizioni di scarsa luce dove l'AI sembra far miracoli allora qualcuno secondo me si è fatto prendere un po' troppo la mano allora sì ti dà un file finale più pulito di quello che ti dà magari una ripresa in condizioni di scarsa luce della concorrenza però non fa miracoli il sensore ha le stesse dimensioni di quello della concorrenza è ugualmente incapace di rendere bene in condizioni di scarsa luce è l'algoritmo di intervento che è presente nell'Ace Pro che riesce a ridurre bene il rumore digitale che si presenta i colori eccetera ma miracoli non ne fa il file finale che ottiene da una ripresa in condizioni di scarsa luce è comunque molto impastato e poco dettagliato certo migliore di quello che ti dà la concorrenza ma non facciamoci illudere quindi quando tu deciderai di prendere questa cam ricorda questo aspetto non prenderla se pensi di avere un miglioramento nelle riprese in condizioni di scarsa luce no apparentemente è migliore dal punto di vista reale visto a schermo pieno non è comunque sul punto di forza e va detto una cosa voglio dirla sull'autonomia di questa cam con una batteria originale che avevo in dotazione nelle mie due ultime uscite fotografiche ho portato in entrambi i casi a casa il lavoro però nel primo caso sono arrivato alla fine dell'escursione che avevo praticamente esaurito la batteria nel secondo caso invece avevo ancora un'autonomia disponibile interessante però l'ho utilizzata in modo differente nella prima escursione ti metterò comunque qui il link da qualche parte per vederla ho fatto delle riprese molto più lunghe mentre nel secondo caso ho fatto tante riprese ma più brevi probabilmente nel primo metodo d'utilizzo andavo a scaldare la batteria e quindi tendeva a deteriorarsi prima la carica rispetto al secondo metodo questa è una cosa curiosa sarebbe da testare ulteriormente ad ogni modo la cam ha una presa usbc e quindi con un power bank dietro puoi tranquillamente aumentare la durata della batteria magari nei passaggi dove non fai riprese la tieni in carica vado a concludere questo video della Insta360 Ace Pro parlandoti di un aspetto che soggettivamente non ho apprezzato molto ma so già far adottizzare le orecchie a qualcuno di voi e parlo dello schermetto che si può ribaltare ma come Alessio come non può piacerti questa cosa allora io ti spiego dove l'ho trovato soggettivamente molto scomodo io sono una persona che fa le riprese dei paesaggi poi gira la cam parla davanti la cam esprime un concetto poi rigira il paesaggio eccetera ecco in questo contesto io dovevo ogni volta mollare una mano per alzare lo schermetto e vedermi mentre parlavo davanti la cam poi quando guardavo il paesaggio dovevo ritirare giù lo schermetto insomma l'ho trovato molto scomodo qualcuno di voi potrebbe dirmi vabbè ma quando tu ti riprendi magari così il paesaggio riprendi verso di te non serve vai ad occhio no perché tante volte io quando mi riprendo parlo anche di cose che ho alle spalle e quindi riesco a vedermi e riesco a muovermi un po' come fanno quelle previsioni del tempo che muovono le mani e indicano le cose dietro di sé insomma da questo punto di vista l'ho trovato scomodo ma ripeto è una cosa soggettiva magari nel tuo caso non incide assolutamente nulla per lo stesso motivo trovo questo schermetto qui davanti totalmente inutile e penso che sia abbastanza oggettiva come cosa perché di sapere ok che parametri di scatto di ripresa sto utilizzando a me non serve so già come è impostata la cam lo so prima perché lo vedo qui nel schermo dietro prima di premere il rack e quindi lo trovo scomodo inutile soprattutto avrei preferito magari una soluzione come è stata adottata alla concorrenza avere una piccola anteprima non so se si può fare magari con un aggiornamento firmware in questa cam ma lo troverei molto più comodo certo qualcuno potrebbe dirmi vabbè ma vai ad occhio così ma allora cosa serve lo schermo ribaltabile se dopo io devo comunque tenerlo chiuso dietro questo è un aspetto personale dimmi cosa ne pensi andando qui sotto nei commenti e lasciandomi il tuo feedback e siamo arrivati alla fine di questo video se ti è piaciuto metti un like iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto ma soprattutto condividi questo video con i tuoi amici o persone che sono interessate a questa ESPRO e vorrebbero sentire un punto di vista differente dalle solite recensioni dove vengono spulciate tutte le funzionalità qui si parla di pratica io ti ho dato la mia esperienza dal punto di vista pratico per quello che faccio io spero ti sia piaciuto io sono qui a disposizione se hai delle domande vai qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao da nessuno